ma grini lo sito vara soterra fernandez si chiude involontariamente 1 2 e poi il tacco di barba che porta in vantaggio la l'ositana 1 a 0 per la formazione di casa quando siamo al quinto di questo primo tempo si può giocare con lo sito sulla destra fermato da pomicino va via lo sito che mette verso il centro per il tap in vincente di barba che fa 2 a 0 e trova la doppietta per sonale ha rischiato di essere raggiunta sul pari la l'ositana in più di un'occasione se l'è cavata anche con un po di fortuna che ora il raddoppio di barba per il 2 a 0 per lo sito 2 contro 1 lo sito cerca barba non lo trova sfera ancora buona per la sito che mette verso il centro e ancora barba realizza a pochi passi dalla porta il gol del 4 a 1 tripletta personale per il numero 10 e 4 a 1 per la l'ositana che ripristina il triplo vantaggio